Benvenuti nel canale Fabio Pecce se il video di tuo gradimento faccelo sapere con un like. Ieri, 29 aprile, ha fatto scalpore la notizia della partecipazione di Pupo come giudice al festival del Cremlino in Russia, noto anche come Sanremo Russo. Il cantante giudicherà i concorrenti che porteranno sul palco canzoni con riferimenti bellici particolarmente espliciti o con forti sentimenti patriottici. Lo scandalo legato alla partecipazione del cantautore italiano sorprende tutti anzi tantissimi, tra cui il suo collega Albano, che si è indignato. In un'intervista rilasciata al quotidiano Il Messaggero, il cantautore di Cellino San Marco ha espresso la sua sorpresa e il suo disappunto per la notizia. Questa notizia mi lascia perplesso, non so cosa ci sia dietro e non voglio saperlo. Sono arrabbiato, ha detto. Sebbene Pupo abbia chiarito di essere libero di fare la sua scelta, non ha potuto separarla dal fatto che ha espresso il desiderio di andare in Russia e diventare una star. Lo stesso Albano ha ammesso che la sua valutazione iniziale di Putin come leader dello Stato sovietico è cambiata quando ha deciso di cancellare la tappa russa del suo tour lo scorso autunno, citando la guerra in corso con l'Ucraina. In ogni caso, l'ex marito di Romina Power non ha intenzione di convincere Pupo ad annullare la sua partecipazione al festival musicale e gli ha chiesto di assumersi la responsabilità della sua scelta. Tuttavia, l'artista non può rimanere in silenzio e ha ribadito di essere perplessa sulla questione. Nelle ultime ore Pupo ha fatto sapere che non andrà in Russia.